Buonasera e grazie per essere qui perché qui oggi ci sono due eventi belli, importanti che riguardano una delle associazioni che è all'interno degli occhi degli atleti paralimpici ma anche all'interno degli occhi di coloro che sono vicino agli atleti paralimpici. Vi lascio dopo il film, dopo il film avremo il racconto di quello che è successo. Grazie. 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 Grazie a Gabriele, grazie a Veronica, grazie a Eleonora. Grazie. 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 Grazie.